come si vive e come si combattono il passato cosa si prova dentro una battaglia due inviati nel tempo su fronti opposti ce lo raccontano con l'aiuto di esperti rievocatori si sfida si addestrano rivivono in prima persona i conflitti che hanno segnato l'italia dal medioevo al rinascimento alex braga e giulio spadetta sono pazzi per la storia l'imperatore federico secondo andò una volta a caccia con il suo falcone preferito teneva più a lui che ai propri possedimenti il falcone in volo vide sotto di sé un'aquila l'aggredì e l'ha ucciso allora l'imperatore ordinò che al falcone fosse tagliata la testa perché aveva ucciso il suo signore brutta fine sto falcone sì ma la novella che ti ho appena letto è una metafora significa che nessuno può mettersi contro l'aquila contro il simbolo del potere imperiale anche se in realtà qualcuno ci ha provato i comuni della lega lombardia è certo i comuni che sostenevano il papa contro l'impero e questo rifletteva anche un po' una spaccatura che dal dodicesimo secolo si diffuse e divise l'europa e anche l'italia da un lato i sostenitori del papa i guerri dall'altro i sostenitori dell'impero i ghibellini una divisione che esplode con la battaglia di corte nuova del 1237 la battaglia di corte nuova è una delle grandi battaglie del medioevo lo scontro in campo aperto tra due eserciti di circa 20.000 uomini quello della lega lombarda e quello dell'imperatore federico secondo all'origine del conflitto c'è la volontà di controllo e di dominio dell'impero sui comuni del nord che vogliono mantenere la loro autonomia l'impero e la lega si erano già fronteggiati nella celebre battaglia di legnano e l'impero era stato sconfitto ora sotto la guida di federico secondo ha la possibilità di prendersi una religione la guerra con la lega però viene rimandata a lungo anche grazie alla mediazione del papa gregorio nono che per sottomettere l'impero alla chiesa favorisce i comuni la mediazione non ottiene risultati federico secondo non è disposto ad aspettare uno e nel 1235 marcia con le sue truppe verso l'italia del nord è pronto ad affrontare la lega le intenzioni di federico secondo sono bellicose prima sottomette i comuni veneti poi ringalluzzito dai successi marcia verso la lombardia con un esercito imponente 10 mila uomini fine del 1237 federico secondo punta verso breccia e si ferma proprio qui dove siamo noi a monti chiari e assedia proprio questo castello comincia a bombardarlo gli da fuoco lo rate al suolo capito e poi la lega non sta con le mani in mano si organizza per andare a proteggere andare in aiuto di brescia guarda vedi che marciano le truppe arrivano da milano da lodi da alessandria da vercelli vedi no non vedo niente guarda meglio tieni in effetti qualcosa si vede i due inviati di pazzi per la storia ora sono pronti a rivivere in prima persona la battaglia di corte nuova devono solo scegliere da che parte stare è mica facile facciamo decidere al caso ecco qua fermo non toccare che questo è un esemplare unico un augustale moneta cognata nel 1231 se esce testa vai con la lega se esce aquila vai con l'impero è uscita testa vai con la lega spadetta sarà una sfida all'ultimo sangue 1237 corte nuova qualche giorno prima dell'inizio della battaglia la sfida è iniziata i nostri inviati devono raggiungere i loro eserciti i primi giorni di novembre del 1237 l'esercito dei comunali rimasto per una settimana a presidiare brescia muove verso sud col suo carroccio e si avvicina agli imperiali che dopo aver saccheggiato e devastato la pianura bresciana si sono accampati a Pontevico a qualche chilometro di distanza da loro poco oltre il paese di Manervio si accampano anche i comunali i due eserciti sono separati soltanto dalle acque melmose di un piccolo fiume il Risignolo attaccare è pericoloso si corre il rischio di venire colpiti dal nemico mentre si attraversa il corso d'acqua la situazione è bloccata le truppe si guardano a vista nessuno si decide a fare la prima mossa nella nostra ricostruzione è il 16 novembre 1237 mancano 11 giorni alla battaglia di Corte Nuova questo è l'accampamento degli imperiali ecco il mio esercito un vero esercito multietnico e multiculturale quelli sono i fanti cremonesi lombardi sì ma fedeli all'imperatore poi ci sono i cavalieri tedeschi quelli pesanti e quelli leggeri come i berrovieri da cui deriva la parola sbirro erano spesso dei mercenari i berrovieri al soldo degli eserciti e infine nell'esercito di Federico II ci sono i musulmani sì, ecco i temibili e famigerati arcieri saraceni di Lucera a cui hanno dato il nome arabo di Al-Lugarà Federico II li ha deportati dalla Sicilia dove creavano disordini alla Puglia gli ha concesso autonomia e libertà di culto e in cambio ha ottenuto una fedeltà assoluta non è che io abbia molto la faccia da saraceno però loro sono un reparto leggendario io voglio arruolarmi con loro ma chissà se saranno ospitali come mi accoglieranno vestito così uno dei nostri due inviati è stato accolto favorevolmente tra i saraceni nell'accampamento imperiale nello stesso momento l'altro è a pochi chilometri di distanza davanti all'accampamento dei comunali i comunali qui da voi lombardi lavorano sodo là in fondo tengono il loro carroccio difeso da soldati scelti il mitico carroccio che poi è un carro a tutti gli effetti lì davanti c'è il timone a cui vengono attaccati i buoi che lo trainano sì perché gli eserciti comunali se lo portano sempre appresso in ogni impresa militare è un'eredità della cultura nomade dei barbari ma soprattutto il carroccio è il simbolo dei comuni in guerra un simbolo che sia laico che religioso sopra ci sono le insegne cittadine i gonfaloni ma c'è anche l'altare con la grande croce di legno prima della battaglia sull'altare si celebra la messa ed è sempre sul carroccio che si raccolgono e si curano i feriti insomma è un punto di riferimento in tutto e per tutto bene voglio proprio fare parte dell'esercito comunale vediamo se mi prendono siccome sono l'ultimo arrivato potrò giusto fare il fante il fante semplice le due grandi categorie dell'esercito comunale sono i milites ovvero i soldati di rango maggiore che spesso sono cavalieri e proprietari di terre e poi ci sono i pedites gli appiedati i fanti ma anche qui bisogna differenziare ci sono i fanti specializzati cioè balestrieri e lanceri e poi c'è l'umile massa di quei fanti che non vengono considerati neanche militari ma populus popolo il fante veste semplice in testa ho questa cuffietta si chiama infula perché è cattiva educazione andare in giro a capo scoperto questa si chiama gonnella ma in realtà è il tipico capo maschile bisogna sblusarla un po' la moda prevede proprio questa operazione e infine c'è questo si chiama bambagione non è un insulto è detto anche zuppa armandi giubba armata il bambagione è fatto di stracci e di crine questa è l'armatura dei poveri è la protezione più semplice che c'è l'abbigliamento di base del fante comunale è completo nell'accampamento imperiale intanto è in corso la vestizione del nuovo arciere saraceno ho iniziato la mia vestizione questa è la durra una tunica di lana no? di lana ai piedi calzo delle babugiat babuce cioè delle babbucce di pelle di pecora proseguiamo con il copricapo sotto elmo i miei colleghi saraceni mi hanno appena omaggiato di questa maglia di ferro che si chiama usbergo che vuol dire in italiano usbergo protezione anche se solitamente gli arcieri saraceni combattono inermi ovvero non si proteggono come segno di coraggio per me hanno fatto un'eccezione e mi hanno concesso di indossare questa maglia di ferro per la mia incolumità quindi in realtà i miei amici saraceni sono stati gentili anche se infilarla mi sa che non sarà semplice pesante 15 chili 15 chili grazie del regalo sia al fante comunale che all'arciere saraceno mancano ancora gli elmi e le armi per affrontare la battaglia il fante si protegge il capo con la cervelliera l'elmo più elementare e più diffuso nel 200 una semplice calotta in ferro battuto l'elmo dell'arciere saraceno ha forma ovale e si chiama bidà che in arabo vuol dire esattamente uovo l'uovo viene decorato con il segno distintivo dei saraceni il turbante una fascia di lino di 3 metri che si avvolge attorno all'elmo per la difesa personale il fante ha un'ascia che porta infilata alla cintola l'arciere nella fascia di lino bianca annodata in vita ha il calancur una spada ricurva dall'impugnatura in osso il fante comunale è un fante palvesaro cioè addetto al pavese o palvese un grande scudo di legno in uso dall'undicesimo secolo del peso di 2 kg si impugna da dietro infilando il braccio in due fasce di cuoio il palvese ha la funzione essenziale di coprire in battaglia la figura del fan lo scudo dell'arciere invece è un piccolo disco in cuoio chiamato rotella la rotella lo protegge dalle frecce degli avversari consentendogli di tirare con il micidiale arco a doppia curvatura sul legno dell'arma è incisa una scritta in armi che Allah ti protegga in battaglia ora per il fante comunale e per l'arciere saraceno cominciano gli addestramenti dovranno essere pronti a combattere nell'imminente scontro tra la Lega Lombarda e l'impero eccovi qui insieme ai miei arcieri siamo dieci perché la decina è l'unità di base due fanti in testa che proteggono il gruppo e otto arcieri in fila indiana chiude il nazir cioè il capo di tutti vediamo come si muove la mia decina senza di me ecco siccome ci terrei a entrare in azione con la mia decina quanto prima devo andare a chiedere al nazir come si fa a tendere l'arco composito l'arco si chiama composito perché non è semplice ovvero fatto di solo legno ma anche di altri materiali la fibra ed il corno la sua forma così curvata e flessuosa permette di caricare meglio il colpo e di lanciare le frecce a maggiore distanza rispetto agli archi occidentali 400 metri di gittata contro i 300 di un arco inglese scusi nazir io so che per scoccare le frecce con quest'arco si usa un metodo particolare chiamato metodo del pollice no? che è una cosa semplice assolutamente no no e me lo insegnerebbe? proviamo sì prima di cominciare a tirare è necessario imparare ad agganciare la corda con il pollice e l'indice da qui il nome metodo del pollice esatto perfetto il respiro diventa fondamentale anche con uno sbergo così pesante certo porti l'arco a fianco a te inspira e mentre inspiri tiri sull'arco quando espiri tendi la corda e la porti vicino alla bocca poi richiudi l'arco e scocco quando sarà il momento di scoccare ok maestro pronto vai su inspira espira porta la corda vicino alla bocca esatto vedi come si è alzato l'arco? sì in questo momento non vedo quasi niente però immagino di sì e mi fido di lei chiudi chiudi aggancia col pollice l'indice vai su inspira espira porta giù ok riesci a guardare adesso? un po' sì adesso proviamo a incoccare la freccia sfila come un'arma la agganci bene e la incocco il pollice deve agganciare bene la corda l'indice deve agganciare il pollice così ok perfetto ora vai su inspira espira porta la corda verso la bocca sgancia bravo cominciamo ad andare bene va bene Alex è il momento di inquadrarti nella decina adesso dovrai imparare a muoverti avanti insieme agli altri compagni va bene quando darò il comando scuto muove vuol dire che dovrete fare dei tre passi a sinistra avanti e contemporaneamente metterete la freccia all'arco sagitta nervo apto quando poi sarete sul punto io vi darò il comando di arcum adducere e quindi tenderete al mittere scaglierete tutti insieme chiaro per tutti bene arcieri adscuto muove sagitta nervo apto arcum adducere vittere ce l'ho fatta ce l'hai fatta complimenti contro l'arco dell'arciere saraceno il fante comunale dovrà opporre il proprio scudo palvese io questo scudo palvese devo imparare a usarlo non sia mai dovessimo combattere sul serio state bene noi fanti palvesari con i nostri scudi facciamo un muro che deve essere bello chiuso e compatto per reggere l'urto della fanteria avversaria e a volte anche della cavalleria si pianta bene lo scudo in terra così si appoggia la spalla sinistra allo scudo così e si pianta il piede destro a contrasto con il terreno e poi questo lo spiedo lo spiedo che ci faccio lo spiedo si pianta in terra si e la punta rivolta verso il nemico io ricevo il colpo che mi va sulla spalla certo va sulla spalla bisogna spingere bisogna controspingere piano eh schiera pronta armi innanzi gli scudi palvesi possono servire anche nelle azioni offensive per esempio quando il capitano chiama l'ordine armi innanzi i palestrieri e i fanti utilizzano gli scudi quasi come fossero i merli di un castello da dietro infatti protendono e sollevano le loro armi tra le fenditure per attaccare ma noi palvesari rappresentando la prima linea della schiera dell'esercito siamo un po' carne da macello e quando inizia la battaglia è proprio contro di noi che si scaglia la furia delle armi da lancio come archi e balestre noi dobbiamo pararli terminato l'addestramento il fante comunale è pronto per raggiungere la tenda che gli è stata destinata per la notte scusi ma per dormire io in che tenda mi posso accomodare? negli accampamenti ci sono le tende fatte di tela e pali di legna dove dormono i soldati professionisti e i fanti più esperti e poi ci sono le tende per noi fatte di paglia e di sterpi ma io le conosco bene queste tende le ho viste tali e quali nel meraviglioso affresco di Simone Martini che sta a Palazzo Vecchio a Siena uguali proprio certo però a parte questo bel riferimento pittorico dormirci dentro non è che deve essere il massimo nel medioevo negli accampamenti il concetto di tenda singola non esiste e infatti in ogni tenda ci sono almeno tre uomini si scaldano un po' ma certo la situazione non è agevole ve lo assicuro mancano dieci giorni alla battaglia di Corte Nuova ma gli eserciti continuano a scrutarsi a distanza a poco meno di sei chilometri gli uni dagli altri senza azzardare attacchi le acque del Risignolo sono sempre più impraticabili la situazione avvantaggia i comunali il loro esercito è meno potente ed esperto di quello imperiale la speranza della Lega Lombarda è che con l'avanzare dell'inverno le truppe di Federico II si ritirano rimandando lo scontro comunali se ne stanno approfittando però noi siamo più forti e meglio preparati le uniche armi che loro hanno a disposizione sono l'inverno e quella paludaccia che ci separa tra l'altro Federico II aveva anche proposto uno scontro su un terreno migliore secondo le regole del Fair Play Cavalleresco ma loro hanno rifiutato il fante comunale e l'accere saraceno continuano ad addestrarsi per essere comunque pronti a combattere adesso che il metodo del pollice non ha più segreti vorrei dedicare una freccettina a uno dei fanti dell'esercito comunale non uno a caso uno in particolare parata sia gli imperiali che i comunali credono di tenere in pugno la situazione ma una mossa a sorpresa sta per cambiare gli equilibri tra nove giorni si scatenerà la battaglia di Corte Nuova come un falcone imperiale sto per gettarmi su di te io i falconi me li faccio allo spiedo eccolo qua lo spiedo ora imparerò a combattere anche con questo i due inviati di pazzi per la storia grazie all'aiuto di esperti rievocatori stanno per rivivere la grande battaglia di Corte Nuova combattuta tra i comuni della Lega Lombarda e l'esercito imperiale di Federico II si scontreranno su due fronti opposti un fante comunale contro un arciere saraceno ora si sono addestrati per prepararsi al combattimento mentre i loro due eserciti si guardano a vista a pochi chilometri gli uni dagli altri accampati sul corso d'acqua del Risignolo tra Ponte Vico e Manerbio in provincia di Brescia mancano otto giorni alla battaglia ma la situazione sembra bloccata il nostro inviato tra gli imperiali approfittando di questa attesa forzata si veste da falconiere per esercitarsi in quell'arte che Federico II non abbandonava mai neanche durante le campagne militari la caccia con il falcone l'imperatore si è esercitato nella falconeria lungo tutta la sua vita raccogliendo il suo vasto sapere in materia in un trattato l'arte di cacciare con i volari la summa di una disciplina complessa che allena l'intelligenza e il coraggio spero di essere all'altezza comunque due falconieri esperti mi guideranno la maggiore difficoltà nella caccia con il falcone è che la bestiola è selvatica quindi bisogna procedere ad un vero e proprio addestramento che va fatto secondo regole con tecniche con degli strumenti molto precisi intanto prima dell'addestramento o della caccia il falcone viene incappucciato non deve vedere nulla che lo innervosisca o lo distragga questi lacci di cuoio fissati alle zampe del falcone legati tra loro si chiamano geti i geti lo trattengono e gli impediscono i movimenti quando il falconiere scioglie i geti il falco viene lanciato gettato è proprio il caso di dire sulla preda la campanella di bronzo legata ai geti si chiama nola il falco da fermo se sente la preda vicina si agita e fa tintinnare la campanella e poi il suono della nola serve al falconiere per sentire dov'è il falco quando si allontana il falcone dovrebbe sempre tornare qui sul pugno guantato del falconiere tu avvicini il pugno al falco lui quando sente il tuo guanto sale da solo in effetti è salito questo è un falcone che è quasi pronto per spiccare il volo ma non farlo all'inizio di un addestramento un falco non può essere lanciato in volo libero si va per gradi e per prima cosa lo si addestra con questa lunga corda di 50 metri chiamata filagna detta anche credenza credenza perché non fidandosi del falcone i falconieri credono soltanto in lei quindi adesso tengo un pezzo di carne lui volerà sul mio pugno siamo sicuri? abbastanza dai dai ecco Malik è arrivato Malik adesso ha imparato ad atterrare sul mio guanto con la filagna ora il falco deve imparare a conoscere il logoro il logoro è una falsa preda cioè è un fantoccio fatto di penne e piume quando il falcone prende confidenza con il logoro si può provare a farlo volare libero senza filagna senza corda maestro lanciamo il falcone in volo libero si fa ruotare il logoro mentre il falcone è in volo e poi si lancia in aria e il falcone lo cattura si avventa sul logoro proprio come farà a caccia con le vere prede mentre i falconieri imperiali sono impegnati nei loro esercizi il fante comunale vicino al proprio accampamento continua ad addestrarsi in vista di una battaglia che il suo esercito vorrebbe provare a rimandare il più a lungo possibile io qui sto cercando di prendere confidenza con lo spiedo con quest'arma qua finora l'ho usato soltanto in chiave difensiva protetto dal pavese potrebbe anche essere che questo pavese tu lo perdi in battaglia a quel punto sarei costritto a combattere con lo spiedo qui certamente certamente lo spiedo è un'arma piuttosto rudimentale anche se è un attrezzo ingegnoso a modo suo ad esempio la base che sta sotto la punta dello spiedo è una sorta di sistema di sicurezza serve per impedire che l'arma affondi troppo nel corpo che colpisce con questo sistema invece l'arma affonda solo quanto basta e si può estrarre velocemente per poi sferrare subito un altro colpo vediamo come funziona il combattimento faccia a faccia piano però piano 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 non ti preoccupare allora tu provi a venirmi incontro e io ti devo ora ora io affonderò ti scarto di lato esatto proviamo piano eh e a quel punto ti posso venire addosso mi affondi adesso fammela vedere tu una parata se io provo a venirti addosso tu che cosa fai io ti punto così si dai vado affonda speriamo che questo non accada in battaglia battaglia a parte lo spiedo si può usare anche in modo più pacifico per andare a caccia di cinghiale ad esempio si avanza nel bosco con questa formazione i balestrieri in testa pronti a ferire la preda con le loro frecce e dietro noi fanti armati di spiedo ti abbiamo il compito di raggiungere l'animale e sferrargli il colpo di grazia un'altra notte è scesa sulla pianura bresciana nell'accampamento imperiale tra le tende dei saraceni nonostante le preoccupazioni militari non si rinuncia ai riti della convivialità dopo la caccia col falcone sono ritornato in abiti da arciere saraceno ho anche voglia di gustarmi un buon manicaretto arabo che i miei amici saraceni in cucina sono degli assi sì perché per gli arabi mangiare non vuol dire soltanto nutrirsi ma mangiare equivale a una scienza a una disciplina nella dietetica araba il cibo è suddiviso per qualità ovvero se è caldo freddo umido o secco per punto di maturazione ed età e per gli effetti benefici o malefici che provoca gli arabi fanno anche una distinzione tra alimento e medicamento se il cibo accresce il corpo è un alimento se invece agisce sul corpo solo per le caratteristiche che possiede è un medicamento e le spezie visto che non accrescono il corpo sono dei medicamenti dei farmaci modificano la qualità dei cibi aggiungendogli sapore e le loro specifiche proprietà gli arabi non a caso usano tantissimo le spezie ecco se non sbaglio questo piatto deve essere la famosa burania ovvero delle polpettine di carne grassa macinata guarnite con delle melanzane fritte a parte nel grasso di coda di manzo invece le polpettine in che cosa sono cotte? sono cotte in coriandolo fresco e bastoncini di cannella coriandolo fresco e bastoncini di cannella posso assaggiare? un attimo aggiungo un po' di zafferano certo una bella colorita con lo zafferano e poi si può assaggiare? non ancora non ancora bisogna aggiungere dell'altro coriandolo altro coriandolo addizionale ora mangio una un tocco di acqua di rose un tocco di acqua di rose perché gli arabi amano come dire anacquare la loro cucina con l'acqua di rose e ora siamo pronti all'assaggio di questa delizia che devo dire no cioè è è speziata e sento anche cioè è speziata voglio dire non ve la prendete ma se usate le spezie la cucina viene speziata non è che però è buona anche nell'accampamento dei comunali si prova a stemperare la tensione noi di cinghiali a caccia non ne abbiamo trovati e anche le ricette troppo raffinate non fanno per noi per riscaldarci ci basta il vino una cosa molto comune negli accampamenti un bel pentolone di vino caldo con le mele è vino cotto è una bevanda tipica anche delle taverne e quella che ho davanti è proprio una scena della taverna un posto dove si beve e si gioca e forse uno di questi giocatori è un ribaldo o un biscazziere si tratta di termini precisi mica di offese i ribaldi o biscazzieri sono dei personaggi ai limiti della malavita organizzata che seguono gli eserciti in trasferta si occupano dei luoghi dove viene praticato il gioco d'azzardo le biscazze o più semplicemente bische i nostri amici qui stanno giocando alla Zara che è una specie di morra solo che si gioca con i dadi e non con le dita il giocatore deve indovinare la somma che farà lanciando i dadi ma subito prima di lanciarli e si gioca a soldi io sono pronto a giocare una mano con loro metto il soldo dico 10 11 11 6 7 9 il gioco della Zara ha origine araba zar in arabo significa dado e da questa stessa parola zar deriva il termine azzardo quindi possiamo dire che la Zara è il gioco d'azzardo per eccellenza e io trovandomi mi faccio anche un'altra mano 8 se per i comunali prendere tempo è una strategia precisa tra le fila degli imperiali accampati a pochi chilometri di distanza dal nemico al contrario la situazione è sempre più difficile da gestire alcune milizie mercenarie hanno chiesto all'imperatore di essere congedate sta succedendo quello che Federico II aveva previsto il suo potente esercito si sta sfaldando nell'accampamento dei comunali è in atto una battagliola le battagliole sono delle battaglie in piena regola ma i colpi non si affondano e le armi utilizzate dai soldati sono dei randelli di legno si tratta di una sorta di passatempo atletico che ha la funzione di tenere allenate le truppe durante i momenti di stallo le battagliole vengono prese molto sul serio incidenti e ferite sono più che normali ho già la mano completamente traumatizzata dai colpi ricevuti mi sa che mi toccherà allenarmi a lungo per riuscire a essere all'altezza dei miei compagni anche gli imperiali nel loro accampamento si tengono in esercizio dopo una fase di sbandamento tra le truppe è tornato l'ottimismo perché si è diffusa la voce che nonostante le evidenti difficoltà l'imperatore sta per sbloccare la situazione grazie mi sa che mi sento proprio di dire che Federico II potrebbe essere l'uomo giusto per provare a battere l'esercito dei comunali Federico II mentre punta a sottomettere i comuni della Lega Lombarda agisce in una situazione di forte frammentazione politica il nord Italia nel 1237 infatti è un territorio a macchia di leopardo diviso tra comuni guelfi fedeli al papa come Milano Brescia e Treviso e comuni ghibellini fedeli all'imperatore come Bergamo e Cremona proprio i bergamaschi e i cremonesi che conoscono bene i luoghi e sono animati da un'accesa rivalità con i milanesi suggeriranno a Federico II la mossa giusta per arrivare allo scontro decisivo ormai mancano sei giorni alla battaglia adesso il fante comunale e l'arciere saraceno guidati da due maestri d'arme si impegneranno in un ultimo addestramento dall'alto in basso dall'alto in basso a tagliare in diagonale portando tutto il peso sono stati preparati due manichini uno con la maglia di ferro indossata dall'arciere l'altro con il bambagione la tunica imbottita del fante comunale la maglia di ferro dell'arciere non viene intaccata per nulla quando riceve dei colpi di spada portati sia di taglio gritto e rovescio che di punta i suoi anelli intrecciati e fissati tra loro con un chiodino o rivetto rappresentano una protezione quasi impenetrata adesso voglio fare un ultimo tentativo con la mia arma con lo spiedo vediamo se almeno questo risulta efficace maestro che mi dice? che è più efficace di una spada in questo caso il nemico è ferito ma non è morto probabilmente no il bambagione indossato dal fante comunale invece si rivela una protezione efficace solo quando riceve dalla spada un colpo di taglio leggero ancora se la passa abbastanza bene il bambagione il bambagione tiene ma quando si carica il colpo viene intaccato pesantemente se poi lo si colpisce di punta viene trapassato da parte a parte la stessa cosa succede se si scaglia una freccia con l'arco dopo l'esercitazione il fante comunale si è recato dal medico dell'accampamento io non ho molta stima per il mio nemico però facciamo conto che il costatone di manzo che ho appena colpito sia il suo corpo due o tre ferite buone sono riuscito a fargliele allora io che alla fine sono buono e caritatevole ho deciso di portarlo dal medico dell'accampamento dal cerusico eccolo qui la chiesa cattolica nel medioevo ha osteggiato lo sviluppo della medicina come scienza e così per la cura della salute e delle ferite di guerra sono rimasti solo loro i cerusici non sono dei medici né degli scienziati ma dei praticoni della medicina che fanno un po' tutto sul tavolo del cerusico e anche di questo cerusico ci sono i bisturi gli scalpelli ossei i ferri da dentista e la spongia somnifera molto interessante un sistema anestetico già usato dai romani è una spugna marina passata nell'estratto fresco di alcune piante mediche tra cui la cicuta insieme ad alcune gocce di oppio dottore proviamo a fare una disamina una diagnosi come si possono curare queste ferite allora per prima cosa andiamo a valutare la profondità delle ferite e la direzione e come lo facciamo? mi avvalgo di una sonda di piombo la stessa che si usa per le fistole bene la ferita non è molto profonda in questa in particolare è curabile possiamo cauterizzare che significa cauterizzare? il cauterio è uno strumento che viene posto su un bracere riscaldato e poi lo si utilizza per appunto per cauterizzare per bruciare la ferita e quindi restringere i vasi sanguigni bloccare l'emorragia e chiudere la ferita quindi in sostanza la rimarginiamo bruciando i lembi della pelle sì vediamo come si fa ahia ho sentito come una fitta in ogni caso noi stiamo per compiere la mossa finale che ci porterà allo scontro decisivo con l'esercito dei comunali come vedete stiamo smontando il nostro campo sì perché Federico II molto ben consigliato da suoi alleati i cremonesi e i bergamaschi ha deciso di attuare quello che in gergo militare si chiama diversivo ma che noi potremmo anche chiamare tranello si tratta di questo fingeremo di smobilitare da qui e domani passeremo un fiume olio che ha le nostre spalle apparentemente diretti verso la nostra città amica Cremona i comunali penseranno che andremo là a passare l'inverno in attesa di riprendere le ostilità in primavera in realtà faremo ben altro è la mattina del 22 novembre 1237 dopo 14 giorni di sterile duello a distanza stiamo per attraversare il fiume perché andiamo a casa si va a Cremona capito? andiamo a Cremona l'esercito di Federico II mette in atto la sua strategia i 10.000 soldati imperiali passano il fiume olio e si ritrovano in territorio cremonesi ma una volta giunti nei pressi di Alfiano invece di procedere verso sud le truppe avanzano in gran segreto verso nord fermandosi a Soncino è qui che Federico II attende le mosse dell'avversario e perfeziona il suo piano per resistere in certe condizioni bisogna essere forti forti come noi soldati comunali lo ancora non lo sai ma ci rivedremo fra poco e sarà battaglia sui campi di Corte Nuova i due inviati di pazzi per la storia grazie all'aiuto di esperti rievocatori stanno per rivivere la battaglia di Corte Nuova combattuta il 27 novembre del 1237 tra i comuni della Lega Lombarda e l'impero di Federico II i due eserciti separati da un corso d'acqua accampati a pochi chilometri di distanza si sono guardati a vista per due settimane aspettando l'uno la mossa dell'altro ora gli imperiali hanno sbloccato la situazione fingendo di ritirarsi sconfitti dall'inverno e dall'artesa verso la città alleata di Cremolo in realtà hanno deviato in gran segreto a nord aspettando l'avversario al varco i comunali credendo alla ritirata dei nemici hanno smobilitato il proprio accampamento per mettersi in marcia verso casa quando mancano cinque giorni alla battaglia di Corte Nuova visto che il nemico si è ritirato torniamo a casa anche noi in direzione nord loro sono andati verso sud e a quest'ora saranno già a Cremona comunque siamo logori e stanchi perché certe volte non fare la guerra è anche peggio di combattere l'esercito comunale insieme al suo inseparabile carroccio sta muovendo verso nord in direzione di Pontoglio lungo un percorso a tappe forzate passa da Offlaga Lograto e Chiavi dopo cinque giorni di marcia la mattina del 27 novembre 1237 le truppe della Lega Lombarda attraversano il fiume a Pontoglio e si dirigono verso i campi di Corte Nuova è una sosta obbligata è il luogo stabilito per accamparsi lo sanno bene le guarnigioni bergamasche che spiano i movimenti delle truppe dal vicino castello di Cividate per avvertire i loro alleati imperiali appostati in un bosco tra Cividate e Corte Nuova il bosco del Covello questo è il giorno della battaglia avete presente un'imboscata non a caso siamo in un bosco ieri abbiamo lasciato il paese di Soncino e adesso siamo qui nel bosco del Covello perché Federico II la scorsa notte ha elaborato il piano di attacco naturalmente l'esercito dei comunali non sospetta nulla e noi siamo qui ad aspettare il segnale dei fedeli alleati bergamaschi Siamo arrivati sui campi di Corte Nuova è stata una faticaccia anche perché portarsi dietro il carroccio non è per niente facile però ecco là il nostro orgoglio intatto e sempre sorvegliato dalle sentinelle qui i miei compagni stanno allestendo l'accampamento perché tra poco potremo riposarci passeremo la notte qui l'atmosfera è serena anzi è proprio allegra perché i soldati sanno che tra poco potranno tornare alle loro famiglie eccoci ci siamo quello è il segnale di fumo che aspettavamo dai bergamaschi andiamo sono le ore 15 del 27 novembre 1237 il piano di Federico secondo può finalmente compiersi le sue truppe lasciano il bosco del covello e iniziano ad avanzare divise in sette schiere da est e da ovest l'esercito imperiale punta contro i soldati comunali che stanno accampandosi intorno a Corte Nuova i primi ad attaccare saranno gli arcieri saraceni in battaglia siamo sempre noi arcieri ad aprire le danze la nostra pioggia di frecce è una sorta di fischio di inizio si chiama tiro di copertura e serve ad aprire la strada arresto delle truppe e soprattutto a far sbandare l'esercito avversario che ancora non si è organizzato adesso aspetto l'ordine del nazir e poi va i comunali avvistano l'esercito imperiale e corrono in posizione mentre gli arcieri stanno per scagliare le loro fecce dopo lo sbandamento iniziale l'esercito comunale si è fatto trovare pronto l'azione degli arcieri è stata neutralizzata i comunali quindi contrappaccano come ha scritto Pier delle Vigne consigliere dell'imperatore sui campi di corte nuova si scatena una terribile battaglia Gli eserciti si fronteggiano scontrandosi violentemente Gli schemi sono saltati i panti delle prime linee e gli arcieri salaceni si ritrovano gli uni davanti agli altri combattendo corpo a corpo con le armi per la rifesa personale i milanesi si scagliano con particolare accanimento contro i cremonesi loro avversari storici le truppe della Lega Lombarda sembrano avere retto l'urto nonostante le perdite subite ma a decidere le sorti della battaglia di corte nuova è l'azione sul campo della cavalleria divisa in varie colonne una delle colonne è capitanata dall'imperatore da Federico II in persona la cavalleria imperiale piega militarmente l'azione dei comunali un'avanzata travolgente che sancisce di fatto la vittoria di Federico II ora gli imperiali vogliono completare il trionfo impossessandosi del simbolo dell'indipendenza degli avversari il carroccio ma il loro desiderio di conquista si blocca davanti al fossato oltre il quale il carroccio viene presidiato un manipolo di fanti sopravvissuti alla battaglia difende strenuamente l'emblema delle libertà comunali anche il fante più umile si impegna nella difesa con tutte le sue forze si ci sono anch'io a difendere il carroccio lo difendiamo con le armi e con il coraggio che c'è rimasto gli imperiali ce lo vogliono prendere stanno qua a pochi metri c'è solo un fossato che ci divide smettila di fare l'eroe dai su almeno tu arrenditi all'imperatore dai il carroccio è una questione d'orgoglio non lo polleremo mai prego finiamola qui piove anche dateci sto carroccio e basta su non siamo disposti ad arredrare di un millimetro se c'è da fare notte facciamo notte con la notte gli imperiali interrompono la battaglia nonostante l'eroica resistenza il bilancio dello scontro di corte nuova per i loro avversari comunali è stato comunque drammatico sono circa 4.000 i morti 5.000 i prigionieri ma gli imperiali vincitori assoluti vogliono il carroccio a tutti i costi non abbandonano il campo e dormono armati per riprendere l'assalto il giorno dopo i comunali fortunosamente riescono a darsi alla fuga e non potendo portare con sé il carroccio lo spogliano del gonfalone e lo abbandonano al nemico il carroccio privo dei suoi simboli verrà portato in trionfo dall'imperatore per le vie di Cremona eppure la supremazia di Federico II sull'Italia del nord è temporanea 11 anni dopo la battaglia di corte nuova nel 1248 l'imperatore verrà sconfitto dalle truppe comunali a Parma hai visto bastava aspettare qualche anno ti avrei battuto spadetta che vuoi la storia è così oggi a te domani a te senti facciamo un'altra sfida no basta però basta la sfida una garettina di corsa alla macchina e chi perde perde anche la prossima battaglia 3, 2, 1 via ma i miei mali stavano più 15 soldati con i miei mali